Eccomi pronta, sono io, la tua pelle, qui sotto, così, ancora un po' qui, ah, Noxema, è proprio diversa, voglio sentirmi tutte le mattine così, tonificata, protetta, ti senti a posto anche tu, no? Eh sì, non c'è paragone, Noxema è un piacere e poi dura per tantissime barbe, con la schiuma da barba e il dopo barba, Noxema è dalla parte della pelle. Grazie.